Con l'avviso pubblico ISI 2023, INAIL mette a disposizione delle imprese della Toscana intenzionate a investire in sicurezza oltre 49 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. Il dato è stato confermato nel seminario organizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Firenze e Albo Nazionale Gestori Ambientali. Gli incentivi a fondo perduto sono suddivisi in cinque assi di finanziamento in base ai destinatari e alle tipologie di progetti che saranno realizzati con focus sugli interventi per la bonifica e smaltimento dell'amianto, riduzione dei rischi infortunistici e il settore agricolo. Questo è l'ennesimo intervento di INAIL a sostegno delle imprese in materia di salute e sicurezza. Siamo alla quattordicesima edizione a livello nazionale. In 14 anni l'INAIL ha dato alle imprese circa 3 miliardi e mezzo di euro. Quest'anno è uno stanziamento molto importante, parliamo di 508 milioni di euro destinati alle imprese per progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro, di cui più di 49 per la sola Toscana. Gli altri assi di investimento vanno a coprire la generalità delle aziende. Abbiamo la sostituzione di macchinari, abbiamo i sistemi di gestione della sicurezza e un asse specifico destinato all'agricoltura e ai giovani agricoltori. La platea comprende le imprese iscritte alla Camera di Commercio, anche individuali. La presentazione delle domande di accesso agli incentivi è online. Il ragionamento è più di prevenzione che non di cura. Questi 49 milioni per la Toscana sono importanti perché permettono alle imprese di fare un ragionamento, intanto sulla cultura della sicurezza, ma poi intraprendendo propri progetti speciali. L'INAIL, se prima veniva visto come un controllore, oggi viene visto come un partner importante.